approfitto di questo video per ringraziare tutto lo staff del messaggero veneto tutti i precisi carucci e pettinati e vi ricordo che il 29 dicembre in prima serata su italia 1 andrà in onda film din don il ritorno che mi vede protagonista insieme ad un cast eccezionale per cui non mancate all'appuntamento bene mi auguro di vederci quanto prima ad udine e soprattutto passerò per morteliano dove da fanciullo ho passato delle vacanze indimenticabili allora auguri di buon natale a tutto lo staff del messaggero veneto ma soprattutto ai loro meravigliosi lettori da enzo salvi auguri di buone feste dal profondo del mio cuore ciao